Rieccoci online, benvenuti a tutti, buon sabato. Questo è il sesto appuntamento della rubrica dedicata alla privacy e la protezione dei dati personali. Ormai la Tiritera la conoscete, io sono l'avvocato Panucci e vi accompagno in questo percorso di scouting di notizie. Oggi voglio partire super rapida, senza indugiare troppo, perché ho tante cose da raccontarvi. È stata una settimana intensa di notizie, è uscita la newsletter del Garante, in più ancora novità sul fronte a intelligenza artificiale. Quindi direi, muoviamoci immediatamente, andiamo a vedere le prime news. Un'informazione di servizio, come al solito vi ricordo, per tutti gli approfondimenti del caso, Community Omnivis. Avete i link, li trovate nella descrizione a questo video, li trovate digitando Community Omnivis tramite Google. Nella sezione della Community, dedicata alla rubrica, trovate gli approfondimenti del giorno. In particolare oggi vi caricherò qualche fonte, quindi controllate sulla Community, scaricatele, leggetele, perché sono sempre ricche di miei approfondimenti, spunti, sottolineature, quindi non sono mai fonti assettiche. Cerco sempre di inserire qualche commento per aiutarvi nella lettura del contenuto. Per tutto il resto, ci seguite, come sempre già, fra parentesi, volevo ringraziare tutti quelli che erano online, alla live di ieri sera, dove con Simone Chiarelli abbiamo parlato di intelligenza artificiale applicata allo studio. Devo dire che non ci aspettavamo così tanti interessati, non per il tema, perché comunque è sicuramente un tema importante in questi ultimi anni, ma perché le 7.30 di venerdì è un orario un pochino particolare, invece eravate in tanti. Questo mi ha fatto tanto piacere. In ogni caso, se ve la siete persa, trovate il video nel canale di Simone Chiarelli e anche nel canale della Omnivis, e quindi avrete modo poi di approfondire. Vi dico anche questo, che tutte le risorse che ho pubblicato in quella diretta, eventuali prompt, ebook, da sfruttare per lo studio, li troverete all'interno di Gladiatori Digitali, che è la mia community dedicata alle sfide dell'innovazione. Chiaramente dovete essere iscritti per poterle scaricare, ma l'escrizione è completamente gratuita per il momento, quindi vi inviterai ad approfittarne, perché ieri abbiamo condiviso dei prompt interessanti da affiancare al metodo di studio, quindi approfittatene. Partiamo. Allora, come al solito, per i veterani ormai è una cosa abbastanza nota, per i nuovi, io proietto il mio Feedly, che è la mia bacheca che sfrutta l'intelligenza artificiale per cercare le notizie. Oggi ne ho selezionate sei, questa, diciamo, dashboard del mio Feedly è pubblica, quindi la potete leggere poi con calma, e direi di partire con le novità a casa Garante Privacy. Quindi è uscita, come vi accennavo, la newsletter, 28 marzo 2024, i temi sono scottanti, nel senso che il Garante affronta tematiche delitto del lavoro, abbonamenti, quindi marketing, intercettazioni, medicina, trattamento dati sanitari e quant'altro. Molti di questi approfondimenti poi avrete modo di trovarli, di scaricarli, guardarvi le fonti, leggerli in autonomia, visto che non possiamo affrontare tutto, leggere tutto insieme, io ho pensato di approfondire la newsletter lavoro. Quindi no del Garante Privacy all'uso del riconoscimento facciale per il controllo presenza. Tema sempre molto, molto, molto delicato, spinosissimo, che va affrontato con cautela. E infatti le sanzioni sono state pesanti. Non è fra l'altro solo una sanzione, ma vedrete, lo vedremo fra poco, il Garante Privacy ha sanzionato 5 società impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti con sanzioni rispettivamente da 70.000, 20.000, 6.000, 5.000 e 2.000 euro. Vediamo il provvedimento oggi da 70.000 euro, però morale della favola, quando io mi appresto a fare trattamenti altamente invasivi, come può essere il riconoscimento facciale, che in questo caso veniva utilizzato dal titolare del trattamento per controllare le presenze dei lavoratori sul posto di lavoro, devo fare, prima di premere on e avviare il trattamento, tutta una serie di verifiche. Verifiche sia in termini di liceità e legittimità, che rispondono banalmente alla domanda, ma io posso fare quel trattamento? È legittimo? È lecito? Sto violando delle regole, delle norme? E poi un'analisi in termini di fattibilità, costruzione del perimetro privacy. Quindi, ammesso che io possa fare quel trattamento, come devo farlo? Qual è il perimetro privacy all'interno del quale io devo muovermi? Quindi, principio di finalità, minimizzazione, conservazione, tutta una serie di cose. Dalla sanzione, chiaramente, che cosa intuiamo? Che queste società non hanno rispettato tutta una serie di principi. Vediamo allora la prima dei provvedimenti. Quindi, provvedimento del 22 febbraio 2024, ho preso questo come esempio perché la sanzione è quella un pochino più alta, ma anche perché contiene qualche, diciamo, spunto interessante per fare delle riflessioni. Vi voglio mostrare, ecco, anche la colonna dei miei commenti, che trovate sempre anche questi nella forum. Allora, cosa succede? 24 ottobre 2022, reclamo proviene dai dipendenti. Io lo dico sempre, quando faccio un po' le consulenze, vado a fare gli udit e quant'altro. Attenzione, perché la tutela non è tanto una tutela fino a se stessa per compliance alla normativa, ma non è neanche tanto una tutela lato cliente, perché spesso ci si concentra sul cliente, il cliente che può fare il reclamo, il cliente che può rompere le scatole, il cliente che può farmi notare che effettivamente non sto facendo un trattamento conforme, eccetera. Ma il concetto di interessato è un concetto ampio e come titolare del trattamento non trattiamo solo dati di clienti o di fornitori, ma vengono trattati anche dati dei dipendenti, che sono tutti gli effetti degli interessati, perché sono i proprietari di determinate tipologie di dati che il datore di lavoro va a trattare. In questo caso è proprio il dipendente che fa il reclamo. Quindi, cosa succedeva qui sostanzialmente? Lamentano che si accedeva ad un determinato cantiere situato nel comune di Ardea, dove si svolgeva l'attività lavorativa e veniva accertata la presenza degli stessi sul luogo di lavoro. E per far questo era necessario utilizzare un rilevatore biometrico basato sul riconoscimento facciale. In particolare, il dispositivo si chiama Face Deep 3 Smart Face Recognition System. Adesso per curiosità ce lo andiamo a googolare. e vediamo che cosa viene fuori. Ecco, infatti. Allora, vediamo un po' se troviamo il sito web di questa azienda. Face Deep. Beh, però direi che già dalla descrizione, ecco, si vede chiaramente che, insomma, non lascia spazio a molte interpretazioni. Si vede il volto della persona, quindi probabilmente, anzi, quasi certamente, la persona, il dipendente, appena arriva in cantiere, si posiziona di fronte alla telecamera e c'è questa, ovviamente, palese, palese raccolta di un dato biometrico, che è proprio il volto. Vi ricordo che il dato biometrico è un concetto complicatissimo, senza entrare troppo nei dettagli, il dato biometrico è un dato tramite il quale io posso ricavare delle informazioni biometriche del mio interessato. Il classico esempio è anche l'impronta digitale, quindi impronta digitale, riconoscimento del volto, ma anche timbro, voce, sono tutti dati biometrici. Quindi, attenzione. Ecco, attraverso questo sistema, quindi, veniva fatta questa captazione di dato biometrico. Cosa lamentano i dipendenti? Il trattamento di dato illegittimo, perché, dicono loro, la finalità potrebbe essere ugualmente raggiunta con mezzi meno invasivi. Un esempio potrebbe essere il classico beige, no? Arrivo, striscio il beige e ho ottenuto comunque la rilevazione della presenza. Quindi, abbiamo già, no? Ci stiamo già muovendo in un perimetro molto complicato, molto delicato, no? Perché per poter trattare questi dati ci serve una finalità super, super, super strong, super, super, super forte. Diversamente, devo motivare per bene, perché ho scelto di fare quel tipo di trattamento. Il garante, ricevuto il reclamo, delega al nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza tutta l'attività istruttoria. Sapete che il garante può delegare al nucleo speciale privacy questo tipo di attività e quindi dire loro andate in loco, andate sul posto, raccogliete le evidenze e poi ne discuteremo. E così è stato. Il 19 gennaio il nucleo si reca insieme addirittura al personale dell'autorità garante presso il cantiere e fa tutta una serie di accertamenti, no? Vengono interrogati 63 dipendenti, quindi vengono prese tutta una serie di annotazioni. Il rilievo, qualche qual è? La fase di registrazione dei dipendenti svolta in un periodo di qualche mese, quindi diciamo propedeutica all'installazione di quel software, questo Deep Phase 3, come avveniva? Mediante inserimento di un codice associato al nominativo sulla base di un elenco fornito dalla stessa società. Una volta inserito tale ID avveniva il riconoscimento del volto del dipendente e il sistema convalidava la registrazione. Quindi c'era un'associazione fra viso, volto, che è il dipendente che si posiziona davanti al device e un incrocio di codici dipendenti associati a ciascun utente, il match delle informazioni e la validazione poi della presenza. Quindi c'era un trattamento di dato biometrico vero e proprio. Vi dico questo perché ci sono alcuni contesti, per quello vi dico bisogna fare molta molta attenzione, in alcuni contesti si parla di trattamento di dato biometrico ma poi alla fine della partita se si vanno a fare delle analisi informatiche ci si rende conto che il dato biometrico non viene trattato. Un esempio è strumenti simili a questo dove però io passo, striscio l'impronta e il dito per la raccolta dell'impronta digitale ma nel momento in cui l'impronta digitale viene a contatto col device avviene già la trasformazione di quel dato tramite hash, tramite funzioni informatiche abbastanza complicate e la raccolta effettiva non è quella di dato biometrico che viene soltanto sfiorato ma è poi quella di un codice alfanumerico numerico e via dicendo quindi se si parla di dato biometrico bisogna fare veramente molta attenzione beh in questo caso non ci sono dubbi effettivamente il volto l'immagine veniva raccolta quindi c'era un vero e proprio riconoscimento facciale si dice poi non nei locali questo lo raccontano i dipendenti erano presenti vicino alla scrivania dei fogli firma che venivano utilizzati in alternativa ma poi di fatto nessuno li utilizzava viene fuori che quel Deep Face 3 era collegato alla rete quindi c'è anche questo rischio questa alea di rischio che aumenta perché c'era il collegamento online e l'accesso all'applicativo avveniva tramite questa Junior Web questa applicazione tramite cui venivano gestite le presenze poi ci sono una serie di dichiarazioni della società viene dichiarato che ecco questa ovviamente è la dichiarazione resa dalla società il dispositivo era conforme al GDPR e addirittura la società dice noi potevamo eravamo certi di poter fare questo trattamento ai sensi dell'articolo 9,2 paragrafo B del regolamento l'articolo 9 insieme all'articolo 6 del GDPR sono i due articoli fra gli articoli più importanti perché sono quelli che trattano proprio delle basi giuridiche di trattamento dedicate ai dati personali articolo 6 e ai dati particolari articolo 9 dove c'è soprattutto l'articolo 9 in generale un assoluto divieto di trattare dati particolari o sensibili come li si chiamava una volta fatta eccezione per determinate casistiche fra queste casistiche rientrava proprio ad esempio tutela sociale del lavoratore particolari esigenze di sorta ecco ve le ho portate ve le ho riportate qui finalità di medicina preventiva valutazione della capacità lavorativa del lavoratore assistenza sociale gestione dei sistemi di servizi di assistenza sanitaria eccetera eccetera perché probabilmente fanno leva su questa base giuridica perché per assumere quei dipendenti era diciamo si era fatto uso della classica famosa clausola sociale no cioè quella che in un appalto mira a garantire diciamo che il servizio o l'opera vengano fatti tenendo conto di determinati standard e valori sociali tramite per esempio assunzione di dipendenti con particolari problematiche inclusione facilitazione del lavoro e via dicendo quindi loro dicono beh il trattamento veniva fatto perché c'era questa esigenza proprio per semplificare viene fuori che la società non aveva aggiornato il registro dei trattamenti fra le altre cose quindi sostanzialmente per farla breve avevano montato il device lo utilizzavano fra l'altro se poi avrete modo di leggervi il provvedimento non solo in un solo luogo ma in più cantieri quindi viene poi evidenziato dall'autorità che molti dipendenti hanno si sono visti violare la privacy la protezione dei loro dati personali ecco una cosa interessante su molti dispositivi installati era mantenuta la password di default quando si installano questi dispositivi c'è un manuale di istruzioni c'è una password e poi c'è il famoso disclaimer da cambiare al primo accesso ecco questi non l'avevano fatto quindi probabilmente anzi senza probabilmente perché ci sono le evidenze delle istruttorie avevano lasciato la classica password iniziale probabilmente 0000 1111 1234 quindi facilmente manomettibile oltretutto con rischio legato alla violazione dei dati non indifferente la società si giustifica nelle memorie difensive dicendo nel 2021 avevamo riscontrato un pesante aggravamento del fenomeno dell'assenteismo c'erano state timbrature fraudolente che attestavano la presenza in servizio di dipendenti che in realtà non c'erano c'era stato addirittura un acceso contenzioso lavorativo che è il gius lavoristico sulla base del quale abbiamo avuto vari ricorsi e quant'altro quindi loro giustificano in un certo senso ad un occhio inesperto ecco vi invito a fare questa riflessione ad un occhio inesperto questa giustificazione è più che legittima cioè un titolare che dice ma io ho avuto dei problemi legati a fenomeni di assenteismo e similari problematiche sul luogo di lavoro e quant'altro per tutela del patrimonio aziendale ma anche per minimizzare questi fenomeni ho effettuato questo tipo di ragionamento quindi ho installato dei dispositivi tramite i quali io ero certo che la persona che mi dichiarava essere presente in realtà era veramente quella che appunto veniva fuori proprio dai registri di presenza quindi sulla carta non ci sembra non ci sono poi troppe cose da andare a sottolineare ma come sempre un conto è l'obiettivo un conto è il ragionamento poi in termini di fattibilità soprattutto di lettura con gli occhi della normativa in materia di trattamento dei dati personali e protezione dei dati beh vediamo che cosa dice il garante allora come al solito vedete che il modus ragionandi dell'autorità è sempre il medesimo si parte dai principi quindi l'articolo 5 che contiene i principi privacy e io invito sempre a tenere a portata di mano l'articolo 5 del regolamento europeo stampatelo e appendetelo di fianco alle scrivanie dei lavoratori perché questo fa accountability perché poi vedete quando vengono a fare le ispezioni in loco tutte queste cose aiutano nel farci aumentare il punteggio di accountability quali principi sono stati violati un po' tutti a dire il vero no? liceità e correttezza perché il garante non ha capito in quale data fossero iniziate le attività di registrazione dei dipendenti con conseguente trattamento dei dati il numero di interessati coinvolti era un numero significativo si contano 288 lavoratori 276 poiché la società dice ma guarda che 12 lavoratori del comune di Ravello dove avevamo stabilimenti avevamo installato questi device in realtà non hanno mai utilizzato quel sistema perché non è mai entrato ufficialmente in funzione quindi il garante dice anche diciamo ove fossero 276 sono comunque tanti tanti interessati quindi non servono grossi numeri quando si parla di lavoro quindi violazione di diritti di lavoratori non servono 2000 3000 4000 lavoratori interessati che hanno ricevuto la violazione 250 30 sono numeri già importanti per questa valutazione il garante ci dice si osserva che come è chiarito dalla stessa autorità vi è un trattamento di dato biometrico e questo è molto importante sia nella fase di registrazione consistente nell'acquisizione delle caratteristiche biometriche sia nella fase di riconoscimento biometrico all'atto della rilevazione delle presenze quindi stai trattando dato biometrico non solo quando registri il dato per fare il primo screening di chi sono i lavoratori in fase proprio di montaggio del device ma anche dopo quando fai quel match che vi dicevo prima quell'associazione di volto codice univoco e via dicendo quindi il trattamento ha un inizio e ha una fine non è soltanto una porzione e ci dice poi che se questo tipologia di trattamento interessa lavoratori i problemi aumentano perché è necessario salvaguardare i loro diritti è necessario conoscere che cosa ci dice lo statuto dei lavoratori e via dicendo quindi nella gestione del rapporto di lavoro warning grande come una casa non solo warning il trattamento di dato biometrico è ritenuto non conforme ai principi di minimizzazione e proporzionalità del trattamento che cosa vuol dire che non bisogna farlo quindi la società diciamo ha continuato la sua difesa ma in soldoni poi i principi violati non è soltanto chiaramente quello di trasparenza minimizzazione e quant'altro mancava l'informativa quindi i dipendenti non avevano ricevuto l'informativa che li informava di questa tipologia di trattamento la società incaricata del montaggio e le altre società perché vi ricordate all'inizio vi ho detto erano 5 mi pare le società multate perché si trattava di raggruppamenti temporanei di impresa quindi erano vari fornitori che un po' si aiutavano in questa operazione di montaggio assistenza manutenzione e quant'altro non ci sono nomi in ex articolo 28 quindi altra cosa che viene rilevata dall'autorità gravissimo aggiungerei manca completamente un'adpia quindi violazione dell'articolo 35 che ci dice che se utilizziamo nuove tecnologie considerata la natura l'oggetto il contesto eccetera e la tipologia di interessato che in questo caso si tratta dei cosiddetti soggetti vulnerabili sensibili come i lavoratori devi obbligatoriamente fare una dpia quindi devi seguire l'algoritmo dell'adpia contenuto nell'articolo 35 che ti dice come svolgerla e devi conservarla nel cassetto e ogni anno andare a ripescarla e dire è cambiato qualcosa e allora continuare l'attività di monitoring per di più non avevano aggiornato il registro dei trattamenti violazione anche dell'articolo 32 guardate un po' che roba sicurezza del trattamento completamente non considerata perché le password non erano addirittura mai state cambiate erano rimaste le password dell'attivazione che probabilmente erano anche facilmente manomettibili quindi tutta una serie di violazioni alla fine il garante ordina sanzione di 70.000 euro che devo dire la verità non è neanche poi troppo alta per tutte queste violazioni pubblicazione del provvedimento sul sito web del garante quindi sanzione accessoria e richiesta alla società di comunicare quali iniziative sono state intraprese per cancellare poi i dati biometrici conservati e di documentare il tutto quindi insomma capite bene da qui che trattamento dato biometrico ambito di lavoro no perché non viola quei due principi importanti ed in ogni caso bisognerebbe passare al vaglio tutta una serie di diciamo adempimenti ok quindi questo molto importante passiamo alla prossima notizia rimaniamo sempre in casa garante questa è soltanto così una curiosità il garante scrive al Parlamento e al Governo italiano dicendo qui siamo in ambito intelligenza artificiale non so se vi ricordate ve l'ho riportato anche qui in una nota il 12 marzo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Butti che era presente alla discussione che ha portato poi all'approvazione del testo definitivo del AI Act regolamento sull'intelligenza artificiale aveva dichiarato il giorno prima ci sarà un organismo che avrà un ruolo di supporto all'attuazione della strategia nazionale con funzione di vigilanza e sanzione una sorta di autorità che come il garante privacy per il GDPR come l'autorità per la tutela dei consumatori eccetera eccetera andrà a vigilare sull'applicazione del regolamento parlando però non di una autorità indipendente come l'autorità garante italiana ma di un'agenzia allora il garante scrive al al governo dicendo beh forse sarebbe opportuno valutare di attribuire delegare questa attività proprio a un'autorità autonoma come lo siamo noi come è il garante quindi la recente approvazione dell'Ie Act da parte del Parlamento spiega impone agli stati membri alcune scelte sulle norme di adeguamento l'incidenza dell'intelligenza artificiale sui diritti suggerisce di attribuirne la competenza ad autorità caratterizzate da requisiti di indipendenza come le authority per la privacy in ragione di una stretta correlazione fra intelligenza artificiale e protezione dei dati tant'è vero ci ricorda il garante l'Ie Act si fonda sull'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che è la base giuridica della normativa di protezione dei dati quindi lo stesso regolamento sull'intelligenza artificiale prevede il controllo delle autorità di protezione dei dati quindi della serie giochiamocela in casa senza attribuire all'esterno questa attività quindi anche questo molto importante sempre in tema authorities andiamo però ci spostiamo in Francia perché il CNIL che è l'autorità francese a tutela dei dati personali ha pubblicato una risorsa che ho trovato veramente molto 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 utile una guida pratica di sicurezza legata proprio ai dati personali il CNIL è diciamo ci ha abituato a queste pubblicazioni utili non so se conoscete il software PIA tramite il quale totalmente gratuito open source scaricabile posso eseguire una di PIA in maniera semplice più o meno diciamo completa più o meno aggiungo perché dipende poi dal trattamento però se volesse darmi un'idea di come deve essere fatta una di PIA scarico il software del CNIL PIA si chiama proprio così PIA e con una procedura guidata diciamo che in una giornata di lavoro mi produce mi aiuta a produrre una di PIA fatta e finita quindi importante come strumento perché sono comunque attività che comportano anche un costo per il datore di lavoro le sconsiglio chiaramente per determinati trattamenti molto verticali che comportano dati il trattamento di dati più o meno particolari barra sensibili barra delicati per esempio videosorveglianza uno su tutte però però per fare una preliminare di PIA in attesa di trovare il consulente trovare il modo di fare una di PIA un attimino più ben fatta e quant'altro è un ottimo modo per tamponare perché chiaramente è meglio avere un qualcosa nel cassetto che non avere nulla affatto ecco allora cosa fa il CNIL pubblica questa guida che io ho scaricato dal sito e vi ho tradotto in italiano quindi nella forum della community la trovate che contiene delle schede pratiche che ho trovato veramente super interessanti per esempio scheda informativa numero 6 messa in sicurezza della postazione di lavoro come deve essere la postazione di lavoro per essere pro privacy ci sono tutta una serie di adempimenti da fare qui ce lo riassume interessantissima anche la scheda privacy 20 analisi del rischio vediamo se la recuperiamo ve la faccio vedere al volo c'è proprio una checklist adesso non mi carica il file perché è un po' pesantuccio però c'è una checklist con tutto quello che devo fare a livello privacy per i rischi la valutazione eccetera la scorro velocemente giusto per darvi un'idea chiaramente c'è qualche errore di impaginazione perché è stata tradotta in italiano e quindi non è perfettamente impaginata la versione in inglese e in francese la trovate sul sito del CNIL quindi se volete scaricarvi una versione fatta un pochino meglio la trovate lì guardate addirittura ci sono esempi di clausole di impegno di riservatezza per i soggetti destinati a manipolare dati personali fatta finita questa la prendo la copio e la incollo su Word la lavoro la elaboro magari se ho delle difficoltà mi faccio aiutare da chat GPT come abbiamo visto nella lezione di ieri e poi posso utilizzarla molto molto utile quindi vi segnalo questo strumento fra l'altro mi diserverò di leggerlo perché probabilmente ci farò una diretta dedicata perché può essere una guida pratica appunto non indifferente altra notizia vediamo un po' ecco sul fronte anzi vi dico prima un'altra cosa giusto per chiudere la parte un pochino delle linee guida guardate che bella questa iniziativa dell'università degli studi di Torino pubblicano una linea guida per l'uso dell'intelligenza artificiale applicata allo studio quindi dedicata agli studenti stanno aumentando gli atenei italiani che si stanno dotando di queste linee guida perché inevitabilmente gli studenti utilizzano l'intelligenza artificiale come supporto allo studio nella preparazione di tesi di laurea elaborati e quant'altro e quindi la cosa che mi è piaciuta tanto dell'università di Torino è stata questa dichiarazione qui ci dice l'università guardate che diciamo passo in avanti importante vietare l'uso dell'intelligenza artificiale non è consigliato perché il rispetto di questo divieto è difficilmente verificabile infatti non esistono applicazioni in grado di identificare testi immagini o altri contenuti realizzati attraverso applicazioni di intelligenza artificiale generativa questo è l'acronimo del G.A.I cioè tutte quelle intelligenze artificiali come chat GPT che ci consentono di rielaborare dei testi quindi morale della favola non ha senso vietare agli studenti di utilizzare l'intelligenza artificiale ha senso regolamentarne l'utilizzo quindi ci sono queste linee guida sul sito dell'università sono scaricabili è molto bella questa iniziativa fra l'altro non è neanche la prima università l'università degli studi di Siena che era stata forse ecco la prima università 2023-2024 settembre 23 pubblica le sue indicazioni quindi molto bella questa iniziativa di approccio un po' così anche accademico all'intelligenza artificiale infine per chiudere due notizie flash sul fronte cyber security è comparso questa diciamo questo alert sul sito dell'agenzia delle entrate 25 marzo 2024 ci dice l'agenzia delle entrate rileviamo l'esistenza di una campagna di phishing mirata agli utenti di siate il punto fisco vi ricordo che il phishing è un'attività di sfiltrazione malevola di dato che viene fatta tramite degli escamotage abbastanza ormai ben fatti classico esempio vado a ricreare il sito dell'agenzia delle entrate in maniera talmente perfetta talmente proprio precisa da non riuscire come utente a riconoscere che quello è un fake è un sito fake oppure mando la mail e fingo di essere poste italiane l'agenzia delle entrate e quant'altro quindi l'agit qua ci dice c'è stata una campagna phishing mirata proprio a rubare i dati degli utenti registrati su siate il punto fisco quindi ci spiega un po' come è avvenuto quindi si presentava questa pagina ci fa anche vedere proprio l'anteprima di quello che veniva visto dagli utenti ignari ci sarebbe in realtà da dire che ancora per quanto siano perfette queste campagne contengono degli errori quindi fate sempre attenzione a quello che ricevete via posta link e quant'altro vi sconsiglio di cliccare sui link direttamente dalla mail ma utilizzate la modalità di navigazione in incognito nel dubbio e questo già può essere un primo una prima cautela ma poi verificate anche se i messaggi contengono degli errori qui per esempio c'è una palese impaginazione malfatta quindi questi sono tutti degli indicatori che ci danno degli indizi e l'ultima notizia per chiudere domani è la giornata mondiale del backup su questo sito è la rivista Cyber Security Italia se non sbaglio no Cyber Security Trend c'è questo schemino veloce che ci ricorda di perché è importante fare il backup e questo viene fuori sempre ce ne rendiamo conto dell'importanza di questi strumenti ahimè dopo aver subito dei data breach perché è lì che mi ricordo ma avevo fatto il backup dei dati e l'avevo fatto bene ecco su questo sito ci dicono ci danno qualche suggerimento migliori pratiche per un backup efficace quindi frequenza diversificare il backup quindi non solo una modalità ma utilizzare combinazioni di backup fare dei test criptografare i dati e automatizzare il più possibile il processo di backup quindi domani è la giornata mondiale del backup quindi ci ricordiamo anche questa notizia ve l'ho riportata perché mi sembrava molto carina molto curiosa per oggi è tutto una overview super veloce di tutte le notizie vi invito a frequentare la community iscrivetevi al canale youtube iscrivetevi anche al mio canale mi trovate su youtube come avvocato Giovanna Panucci pubblico dei video interessanti diciamo che su temi che riguardano privacy protezione dei dati ma anche tutorial corsi tutto quello che può essere d'aiuto di supporto per la vostra formazione ma anche per un discorso di cultura generale iscrivetevi alla community di gladiatori digitali perché a breve non sarà più totalmente open ma ci sarà anche la possibilità di iscriversi in abbonamento e per gli utenti premium riserveremo risorse letture libri link e quant'altro per ecco premiare coloro che hanno creduto fin da subito nel progetto per tutti gli altri che ovviamente vorranno banalmente leggere soltanto le newsletter è possibile sempre iscriversi gratuitamente e quindi quello potete farlo comunque lo stesso in ogni caso bene per oggi è tutto grazie per essere stati qui con me anche questa mattina vi auguro una buona Pasqua per domani e ci rivediamo la prossima settimana con una rubrica la rubrica privacy numero 7 ciao a tutti grazie mille